Se pertanto questi discepoli hanno scritto le cose che egli, cioè Gesù, compì alla loro presenza e le parole che egli disse, non si può dire che non le abbia scritte lui in persona, in quanto queste sue membra hanno trascritto ciò che avevano appreso dal loro capo, il quale era lì, dicente queste cose. Grazie a tutti.